L'onorevole Nello Di Pasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, in una noto ufficiale ha reso noto che da oggi le aziende che si occupano di allevamenti nella regione siciliana sono autorizzate alla movimentazione verso la regione Veneto di vitelli di età inferiore ai 90 giorni e figli di madri non vaccinate per la Blue Tang. Il nulla osta dal Veneto è arrivato pochi giorni fa sulla scorta di una richiesta che il Servizio Sanità Veterinaria del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute aveva avanzato raccogliendo le stanze di alcune aziende e su segnalazione dell'Associazione Regionale degli Allevatori Siciliani. La regione Veneto ha subordinato il proprio nulla osta al parere del Ministero della Salute che a sua volta prendendo atto dell'intenzione del Veneto di rilasciare l'autorizzazione ha indicato alcune semplici misure precauzionali e aggiuntive rispetto all'attuale situazione epidemiologica nazionale delle quali i Dipartimenti di Sanità Pubblica Veterinaria delle ASP siciliane sono già state informate. Secondo Di Pasquale l'autorizzazione rilasciata dal Veneto rappresenterà un'utile opportunità per gli allevatori siciliani e della provincia di Ragusa in particolare perché potranno finalmente avviare rapporti commerciali con le aziende del Nord per la vendita di certi capi di bestiame fino a ieri non consentita. Sono in arrivo anche altre novità per gli allevatori siciliani. A darne notizia anche in questo caso l'Onorevole Di Pasquale il quale comunica che presso l'Assemblea regionale siciliana è stato appena approvato il rifinanziamento dei fondi per il Consorzio di ricerca filiera lattiero casearia di Ragusa per 1.370.000 euro e i fondi per l'Associazione regionale degli allevatori siciliani per 2.526.000 euro. Se così fosse rappresenterebbe una bella boccata d'ossigeno. Grazie a tutti.